Ciao! Siamo Luì e Sofì e io gli faccio vedere la Fì! Il Fupazzo Maledetto Challenge! Come? Parodio di meco contro te! Andremo a vedere... E lei e Sofì! E noi siamo i meco contro te! Adesso vedremo il Fupazzo Maledetto... Ah! Che veniamo a fare i miei giorni video! E dimmi... Ma che cosa sto fupando? Ti mangio! Ma che vogliamo andare l'orecchio? Aiiiiiiiha! Smettila! Gio che ho già esclamato Sofia! Aspetta! Aspetta un momento! E sii... C'è un momento... E vieni! E dai vieni! E dai scimmietta, ma tu vuoi essere una vera scimmietta, si, si, adesso posso volare, bene ragazzi, finisce qui, che c'è, che c'è, che c'è, Allora, allora, 60 minuti, 200 chilometri, Allora, questo video, se raggiunge un milione, mi piace, 15.000 iscritti, vi lascio un nuovo video, che io non capisco quello che è successo, e ciao!